Un camion di 4.800 kg traina un rimorchio di 3.200 kg La forza risultante sul sistema vale 8.000 N ed è costante Domanda 1. Partendo da fermo, quale distanza percorre il sistema in 30 secondi? Domanda 2. Calcola la forza che si esercita sul rimorchio Domanda 3. Spiega il perché la forza che si esercita sul camion e sul rimorchio non sono uguali Problema che riguarda l'applicazione del terzo principio della dinamica Che abbiamo annunciato nella parte di spiegazione Qui il problema è molto semplice perché immaginiamoci Questa è un moto uniformemente accelerato lungo x Qui scriviamo le due risposte, 1 e 2 Poi la domanda è una spiegazione che poi daremo tranquillamente a parole Non ci sono problemi Dunque ho scritto la massa del camion è 4.800 kg Quella del carrello è di quella del carrello del rimorchio E abbiamo fissato questo carrello Quindi abbiamo questo camion Immaginiamo grossi dimensioni Eccolo qua Eccolo A cui E qui abbiamo un carrellino Piccolo magari facciamo eccolo qua Ecco Questa è Questa è M del rimorchio M con R Questa è M del camion E poi c'è Diciamo La forza Risultante sul sistema Occhio Non è la forza che il camion esercita sul carrello O viceversa La forza che il carrello Esercita sul camion Vi ricordo che per tenere il principio della dinamica Se due forze devono essere uguali In modulo E Sulla congiungente I due corpi Devono essere Uguali e contrari Per tenere il principio della dinamica E' chiaro che però Qui ci dicono che la forza risultante E' 8.000 N Ma allora deve valere comunque L'equazione vettoriale Facendo riferimento al secondo principio della dinamica Ovvero secondo cui La sommatoria delle forze Sparia M La massa totale del sistema Per l'accelerazione Qua ci parlo di forza risultante Sul sistema Quindi la risultante delle forze Ecco qua F con R E' pari alla massa Che del sistema Quindi massa del Quindi la massa del sistema E' massa del camion Più massa del rimorchio Cioè Guarda caso Attenzione 8.000 kg E si perché Se fate 4.800 più 2.200 Proprio guarda caso 8.000 kg E attenzione allora perché Compariamoci l'accelerazione del sistema Del sistema Quindi l'accelerazione del sistema Camion rimorchio Chi è? Proiettando lungo X Questo secondo principio Chiaramente ci verrà che La forza F con R Chiaramente poi C'è la tenere presente Che lungo Y Ci sarebbero La forza peso A cui soggetto Il camion E quella A cui soggetto Il rimorchio E se no Sono entrambe Controbilanciate Dalle rispettive reazioni Normali Per far sì che Sia il rimorchio Che il camion Non vada a sprofondare Qua sotto la strada Non accade Quindi Le equazioni Non ci interessa In questo caso Perché Prima di Comunque Il moto È lungo L'asse delle X E pertanto Abbiamo solamente La forza Suttante a sinistra Uguale a Che cosa? A la massa Del camion Più la massa Del rimorchio Per l'accelerazione Quindi si trova subito Come l'accelerazione Del sistema Che non è pure La domanda 1 Ma praticamente Di quello che stiamo parlando È costante Quindi si capisce Come il moto Sia un moto Evidentemente Uniformemente accelerato Quindi lì scriveremo La legge oraria Del moto Uniformemente accelerato Unidimensionale Diretto Come l'asse X Quindi l'accelerazione È la forza risultante In questo caso Così come ce la chiama Il testo del ruffo Di questo testo Stavo parlando Fatto Vi ricordo che la forza È un chilogrammo Per metro Secondo quadrato Un chilogrammo Il chilogrammo Se ne vanno Infatti In effetti Viene fuori Un metro Secondo quadro Se fate tutto conto Quindi se fate 8000 Fu 8000 Perché quello che viene Viene un metro Quindi l'accelerazione È un metro Uguale a un metro Secondo quadrato Quindi questa è l'espressione D'accelerazione Vi ricordo che però La legge oraria X di T È un mezzo A T al quadrato Ma visto che noi Il tempo Ce lo danno Perché ci dicono Che il tempo Dato numero 4 Che non ho scritto Ma lo scrivo adesso È 30 secondi Vogliono sapere Quanto ha percorso Partendo da fermo Quindi aggiungo il dato 5 Che è V con 0 Velocità iniziale È nulla Partendo da fermo Quale distanza Ha percorso L'intero Blocco C'è l'intero sistema Camion Più carrello Quindi chi è Il spazio percorso Quindi D Possiamo chiamarlo O H di T Sarà In questo caso Un mezzo per A Quindi sarà Direttamente Possiamo mettere Sarà un F con R Diviso 2 Che moltifica Massa del cambio Più massa del rimorchio Per T al quadrato Bene Questo valore È molto semplice Perché Questo è 1 Questo è un metro 0.5 Se moltiplicate 0.5 Per 900 Perché T al quadrato Ottenete questo valore Che in effetti È il risultato Ovvero Un 4.500 4.000 Scusa 450 metri 4.500 Il testo Ci mette come 4.5 Per 10 Da 2 Metri 4.500 E lo spazio Percorso In 3 secondi Motto Un metro accelerato Chi è La domanda 2 La forza Che si esercita Sul rimorchio Attenzione Forza Che si esercita Sul rimorchio Ma allora Attenzione Perché Da chi è prodotta La forza Che si esercita Sul rimorchio La cambia No? E quindi Bisogna applicare Nuovamente Il secondo principio No? Però cosa cambia? Che La forza Che Si esercita Sul rimorchio Ripeto È prodotta Dal camion Quindi In questo caso Facciamo riferimento A Non la forza Risultante Ma la forza Che il camion Esercita Sul rimorchio E chi è? Beh Tenendo presente Che la massa Del rimorchio È 3.200 F è sempre pari A M per A No? Perché F Comunque È sempre pari A M per A Riapplicando Il secondo principio La forza Che si esercita Sul rimorchio Che viene prodotta Dal camion Che sarà F con R Proiettando Lungo X Mentre la forza È sempre Diretta così F con R Pari A Attenzione L'accelerazione È Dunque L'accelerazione È sempre 1 Un metro Il secondo quadro E ovviamente La massa La massa Del rimorchio Per A Ma Massa del rimorchio È 3.200 kg Per un metro Il secondo quadro Quindi F con R F con R Non porta risultante Rimorchio Vorrei che poi Quindi In modulo F Per richiesta È 3.200 Non chili Ma chilogrammi Per un metro Il secondo quadro Quindi chilogrammi Per un metro Il secondo quadro Quindi 3.200 newton In effetti Qua ci parlano di 3.2 Kilo newton Vogliamo utilizzare Quest'altro tipo Di misura Domanda 3 Spiega perché La forza Che si esercita Sul camion E sul rimorchio Non sono uguali Potrebbe essere Un inganno Ma come Per il terzo principio Dei anni Non dovrebbero essere Uguali e contrari Uguali e opposte E ma attenzione Perché Cioè Perché le forze Non possono essere uguali Perché la forza È esultante Cioè La forza La forza Che deve essere Esercitata sul camion Deve valere Facciamolo Guardate Se rifacciamo Quindi F del camion E pari a M del camion Per A Ma A è sempre 1 M del camion Serve 4.800 Quindi F del camion Deve essere pari Rispondo qua Domanda 3 Questo è F Di rimorchio Il modulo Della forza Del camion Deve essere 4.800 Newton Quindi Le forze Non possono essere uguali Non possono essere uguali Cioè A sinistra Questo perché Perché poi La forza Risultante Deve essere Deve essere In maniera A punto di vista Del valore assoluto In tutto Deve essere 8.000 Newton 8.000 Newton Deve essere Ragazzi Perché parliamo Di un sistema Quindi deve essere Comunque 8.000 Newton Quindi 3.200 Più 4.800 Occhio E quindi Non è che devono essere uguali Opposti in questo caso L'abbiamo dimostrato qua Applicando per due volte Il secondo principio In un caso Per quanto riguarda La forza Che viene Esercitata sul rimorchio Nell'altro caso Per la forza Che viene esercitata sul camion Per forza Deve essere Differenti E in tutto La forza Risultante La forza Risultante Deve essere Attenzione Deve essere Pari Chiaramente A 8.000 Newton Ecco il perché 8.000 Newton A sinistra 8.000 Newton Dalla parte Destra MC Più MR Per H Che è 1 Quindi 8.000 8.000 Equazione Vettoriale Equazione Scalare Cioè Equazione Vettoriale Proiettata Lungo Is Deve 8.000 A sinistra 8.000 Dalla parte Destra Ciao a tutti Un'automobile Di 1.500 Chili Traina Un caravan Di 1.000 Chili Il motore Esercita Una forza Costante Di 4.200 Newton Domanda 1 Qual è l'accelerazione Del sistema Trascurando l'attrito Domanda 2 Quale forza L'auto Esercita Sul caravan Con quale forza Il caravan Reagisce Sull'auto E evidentemente Anche questo Proseguiamo Sul Falsarica Del Il suo video Perché Riguarda Riguarda sempre Il terzo Principio Della dinamica Vediamo solamente Questi due problemi Riguardanti esso Molto facili Qui Il discorso È assolutamente Differente Perché Accelerazione del sistema Ovviamente Domanda 1 Non è molto semplice Perché dobbiamo applicare Come di consueto Il secondo Principio Della dinamica La sommatoria Delle forze Pari a M M aggiungo io M del sistema Per A Progettata lungo X Perché lungo X È l'asse del moto Lungo Y Siamo come al solito Che la reazione normale Esercitata dal piano La reazione normale È la forza peso Per quanto riguarda l'auto È la reazione normale È la forza peso Per quanto riguarda Il caravan si controbilanciano C'è l'equilibrio Lungo Y Non ci interessa nulla Anche perché ci dicono Che non c'è attrito E quando non c'è attrito Lo vedremo tra poco Le due equazioni Lungo X e Lungo Y Sono assolutamente Indipendenti L'uno dall'altro E quindi Lungo X Abbiamo che La forza in gioco È questa forza Che ci dicono Esercitata dal motore Che infatti Traina Questa Forza motrice Che tende a trainare La forza trainante Che tende Appunto A tirare Questo Questo Caravan Immaginate La scena Con il disegno Evidentemente F è pari a Attenzione A M Dell'auto Più M del caravan Per l'accelerazione E pertanto L'accelerazione È più volata Dal rapporto La forza E questo Somma Di queste due masse M Dell'auto Più Del caravan E se fate i conti Qui direi che viene Un valore Abbastanza 1,68 Ovviamente La massa dell'auto Più la massa Del caravan Se fate i conti È 2.500 kg Se fate 4.200 N Che poi Un chilogrammo Per metro Secondo quadro Se ne va Col chilogrammo Di sotto Quindi viene fuori Effettivamente Un unità di misura Pari al metro Prato secondo quadro Viene 1,68 Metri Prato secondo al quadrato Molto semplice Domanda 2 E questa domanda 2 Diverse C'è la forza Quale forza L'auto esercita La forza Che l'auto esercita Sul caravan Su questa roulotte Di cui stiamo parlando Beh E qui Dobbiamo riapplicare Il Secondo principio Ma questa volta Però Facendo riferimento Alla massa del caravan Quindi questa forza È pari a La massa Del caravan Per l'accelerazione Ora l'accelerazione È sempre 1,68 Ma siccome la massa Del caravan è 1.000 Se fate 1.000 Per 1.68 1.681 Quindi F Chi è F? F è in questo caso M con C Guardate Fratto M con A Più M con C Proprio per Dunque F con C Lo vediamo qua Per F Dove F Era questa forza Invece che Che il motore esercitava No? Quindi Questa è F con C E se fate questo conto Prendo conto Questo è 1.60 Questo appunto È un Se fate questo conto qui Ma direttamente Anche da qua Si può fare Viene proprio Un 1680 N Come Mi conferma Questa volta Non passa Non cambia 1.680 N La domanda 3 È immediata Beh è evidente che se La forza che l'auto esercita sul caravan È di 1.690 N A questa azione Corrisponderà una reazione Uguale in modulo e contrario Inverso Che il caravan Eserciterà sull'auto E sarà sempre evidentemente F con A F con A 1.680 N Forza che Il caravan invece Esercita sull'auto Uguale e contraria E quindi Direi che non ci sono dubbi qui Proprio si manifesta Come si vede Come evidentemente vale In maniera Direi lampante Il terzo principio Della dinamica Ciao a tutti